Preside, sono state rispettate le procedure e i protocolli per quanto riguarda la gestione dei casi di positività che sono emersi nella scuola di Cermignano? Nello specifico di Cermignano io ho avuto una prima segnalazione di un bambino positivo da screening privato all'inizio di novembre. Ho avuto subito un rapporto diretto con le ASL che non hanno ritenuto opportuno prendere in carico la classe perché non rientrava nei rapporti stretti in quanto il bambino era già in quarantena a casa da oltre 48 ore. Il 23 novembre ho acquisito agli atti della scuola la positività da tampone privato di una maestra. La ASL mi ha risposto che non avevo, non ho la competenza di mettere in sospensione di attività didattiche la scuola come da circolare del 9 novembre. Ciò nonostante il sindaco si è subito attivato allo screening totale, il 25 abbiamo acquisito il primo tampone positivo di un alunno e il 26 abbiamo proceduto con la chiusura del plesso. Lei ha avuto delle richieste da parte dei genitori, delle famiglie di intervenire prima per chiudere o sospendere le lezioni? No, assolutamente no. Il clima che si vive nei treplessi delle scuole di Cermignano è assolutamente costruttivo, positivo. Ripeto, il clima scolastico non lasciava assolutamente pensare ad un riscontro di 21 bambini positivi totalmente asintomatici. Lei ritiene che l'attuale protocollo e la circolare anche dell'ASL attualmente in essere per la gestione dei casi sia risolutiva, cioè permetta di intervenire correttamente e adeguatamente quando si presentano queste situazioni? Sicuramente la circolare ha aiutato noi dirigenti scolastici a prendere subito la decisione di fronte ai tamponi positivi, anche da studi privati, ma l'esclusività dei bambini io credo che vada rivista, perché se c'è un percorso che chiaramente da due giorni io sto facendo per cercare di capire che cosa ha portato alla situazione attuale a Cermignano, io quello che riscontro è un ritardo nell'esito di un tampone di un insegnante e l'insegnante stessa comunque si dimostra essere portatore di Covid, di contagio, quindi forse ecco la allargherei anche, in coscienza lo dico, anche al personale docente.